Ben ritrovati a Tg Proposte. La legge di stabilità colpisce il sistema sanitario nazionale con 4 miliardi di tagli. Il servizio di Marzia Schiavone. Questa volta è la sanità a finire nel mirino della spending review. Considerata dalla legge di stabilità una delle aree principali su cui lavorare per il miglioramento della spesa pubblica, ciò che ha destato più scalpore sono state le forti differenze a livello regionale sul fronte dell'efficienza. La proposta è quella di diversificare più di prima gli stipendi pubblici a seconda delle regioni, così da produrre risparmi e aumentare il legame salariale con i livelli di produttività del settore pubblico. Una proposta che non è certo passata inosservata alle regioni che non vedono di buon occhio l'imposizione dei 4 miliardi di tagli previsti dalla legge di stabilità. Complessivamente la spesa sanitaria costituisce il 75% di del bilancio. I tagli al finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale ammontano 2 miliardi e 650 milioni in tre anni, a cui si aggiungono 660 milioni in meno al tetto per i farmaci, più 840 in meno alla spesa ospedaliera, arrivando al totale tanto discusso di 4 miliardi e 150 milioni in tre anni. Le regioni infatti non ci stanno e al di là delle semplici cifre ci tengono a sottolineare i possibili risvolti negativi che si potrebbero avere, come la chiusura di strutture ospedaliere, l'aumento dei ticket dell'IRAP e dell'IRPEF. I tagli ai finanziamenti pubblici hanno di fatto aumentato le tasse e ridotto i servizi. L'aumento dei ticket induce i cittadini ad affidarsi alle imprese private del settore che gli permettono di abbattere i tempi di attesa, altro nodo della sanità pubblica italiana. Ma l'Europa come affronta tale problema? In paesi europei come Germania, Francia, Spagna, Olanda, Austria, vengono modelli sanitari misti che resistono molto bene dagli imposti dei rispettivi governi per fronteggiare la crisi. Secondo questo sistema, i costi sono rimborsati in parte dallo Stato e in parte da assicurazioni obbligatorie secondo un sistema multipilastro. In Italia, invece, la sanità è finanziata dallo Stato, che si rifà al sistema fiscale generale per coprire i costi prodotti dal sistema sanitario. Possibili soluzioni per l'Italia potrebbero essere l'istituzione di nuovi metodi di gestione dei finanziamenti, l'omogenizzazione delle spese per le attrezzature, l'istituzione di un unico centro d'acquisto e la riduzione dell'eccessiva offerta di apparecchiature diagnostiche che superano la domanda dell'utenza. Le soluzioni esistono, basta solo non dimenticare ciò che recita l'articolo 32 della nostra Costituzione. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Sarà ancora così? Siamo qui con il Presidente della Wills, Antonino Gasparo, in relazione appunto al tema sui tagli della sanità. Chiediamo al Presidente, il Governo vorrebbe tagliare i finanziamenti alle regioni, in particolare vorrebbe verificare maggiormente gli stipendi pubblici a seconda delle regioni, non solo per aumentare i risparmi ma per aumentare anche il legame che c'è tra il livello di produttività del settore e pubblico e quindi sopperire anche a quello che è il ricorso all'ambito privato. Le sembra quindi una buona soluzione questa da parte del Governo? Io condivido questa linea del Governo a tagliare le spese pubblici delle regioni perché sono enorme e quindi fare dei tagli anche perché in questo momento ci troviamo in un momento di crisi e tutti dobbiamo partecipare affinché si possono ridurre al massimo le spese che tra l'altro ci sono spese che sono inconcepibili e quindi vanno tagliate. Mentre invece per quanto riguarda i servizi alla sanità, quelli no. Quelli devono essere magari rafforzati ma nello stesso tempo controllare i sprechi che si vengono a verificare perché la salute pubblica deve essere sempre garantita per come prevede la Costituzione. Quindi lì tagli no, un servizio migliore sì, controlli efficaci nelle spese sì e se ci sono dopo delle responsabilità, chi sbaglia deve pagare anche e spostarlo anche di servizio e fare e portarli in altre possibilità di lavoro. Ecco, di fronte a questi tagli le regioni non hanno reagito benissimo, tanto che Renzi ha affermato tramite Twitter se vogliamo ridurre le tasse tutti devono ridurre spese e proteste. Questo comunque ha dato una risposta a Chiamparino che ha considerato appunto offensive le parole del Premier e l'ho invitato più che altro a vedere quella che era la spegne in review da parte dei vari ministeri, non solo quello della salute. Secondo lei quali settori dovrebbero essere diretti interessati appunto di queste revisioni al posto appunto dell'ambito della salute e della sanità? Secondo il mio parere sbaglia Chiamparino in quanto Renzi ha rappresentato la situazione attuale della nostra economia e della crisi che il Paese sta attraversando e quindi fa un appello a tutti di attenersi e verificare diciamo quelle spese necessarie ed altri diciamo farne a meno. Che dopo non è che la regione o lo Stato chi paga è la collettività, quindi si rappresenta che cosa? Si rappresenta una situazione talmente critica in questo momento che tutti dobbiamo fare la nostra parte. Che cosa significa queste polemiche che ci sono tra le parti? Secondo me sarebbe bene non evidenziare per niente. Attivarsi affinché si possa un po' in qualche modo risanare questa situazione che è veramente molto grave, ma non diciamo per le istituzioni in generale, ma è per i cittadini. I cittadini ormai sono arrivati ad un punto che sono talmente scoraggiati e in qualche modo a molte sono anche disperati. In Europa i sistemi sanitari che stanno reggendo meglio i tagli imposti della crisi sono quelli organizzati secondo modelli sanitari misti, quindi da una parte l'amministrazione pubblica che sopperisce a quelli che sono questi finanziamenti necessari per il sistema, altre parti invece garantite da finanziamenti provenienti da assicurazioni obbligatorie. Pensa che un sistema del genere possa funzionare anche nel nostro Paese oppure è meglio continuare così, cioè con dei finanziamenti obbligatori da parte della sanità pubblica. Io sempre sono del parere che questo ruolo lo deve tenere sempre la collettività. Ai privati non si possono dare dei ruoli che in qualche modo dopo potrebbero essere non quelle dovute ma per convenienze diverse magari far sentire la presentezza o magari erogarli in maniera non efficiente. Quello che si dovrebbe invece affidare al privato o altre strutture, non so quale però sono da individuare, ecco togliere alle regioni e anche allo Stato stesso la possibilità di poter loro direttamente intervenire su acquisti di strumenti che dopo potrebbero servire all'istituzione. Ecco ci dovrebbero essere organismi diversi che attraverso delle gare da apparto pubblico possono fare tutti quegli acquisti necessari che ne vengono richiesti e dopo fornirli. Però le regioni come lo Stato non dovrebbero entrare sull'aspetto diciamo di trattative. Ecco in questo modo si potrebbero evitare anche determinate situazioni che molto spesso dopo vanno a finire nella corruzione. Ecco da questo punto di vista un vero e proprio modello se si può dire arriva dai Paesi Bassi i quali hanno rimosso quelli che erano gli interventi politici e burocratici dalle decisioni operative nell'elargire cure e servizi medici. Pensa che la politica debba fare lo stesso anche nel nostro Paese o deve comunque mantenere quello che era l'intervento politico all'interno della sanità? Secondo me questo potrebbe anche essere adottato cioè prendere dei spunti per poter magari dopo approfondirle e magari attivarle. Potrebbero essere nell'interesse collettivo questo sì. Garanzia Giovani, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile suscita malumori e polemiche. Lo vediamo nel servizio di Jessica Cerino. Garanzia Giovani, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile suscita malumori e polemiche. Il progetto, avviato in Italia da pochi mesi, prevede finanziamenti per i Paesi membri con tassi di disoccupazione superiore al 25%. L'obiettivo del programma è sostenere i cosiddetti NIT, Not in Education, Employment or Training, ovvero giovani fra i 15 e i 29 anni che non sono impiegati in un'attività lavorativa, non sono inseriti in un percorso scolastico, né hanno un tirocinio attivo. La Fondazione Roma Sapienza e Brain Network, sistema integrato per l'inserimento al lavoro, ha organizzato un evento, il Career Day, presso la Facoltà di Economia, per facilitare l'incontro fra aziende, istituzioni, studenti, neolaureati e laureati. Tanti gli stend delle organizzazioni con posizioni aperte, pronti ad accogliere curricula. Hanno seduto alla tavola rotonda di presentazione alcuni esponenti istituzionali, tra gli altri Lucia Valente, assessore al lavoro a Regione Lazio, Walter Rizzetto, vicepresidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati, Andrea Fusco e Andrea Nemone, servizi per l'impiego della provincia di Roma. Il confronto sulle tematiche però ha animato molto i giovani. Un gruppo di manifestanti ha infatti impedito che il convegno andasse a buon fine, ponendo molti quesiti ai relatori. Da luglio 2013 che Lazio è vietato fare il tirocini gratificabile. E le tue salvevano di buon sospedale, non è un'attività, vogliamo essere un'attività, non è un'attività. La discussione è stata chiusa con anticipo, lasciando la sala perplessa. Eppure i NIT chiedevano solo maggiori tutele e più trasparenza nel circuito. Due le voci emerse, da un lato ragazzi stanchi della burocrazia italiana troppo lenta nei processi di comunicazione, dall'altro referenti pubblici lontani dai veri problemi dei disoccupati. Tuttavia lo staff Brain at Work si è dichiarato soddisfatto, considerate anche le difficoltà nella buona riuscita del Career Day. Lo scopo principale, precisa ai nostri microfoni, il mediatore, è agire per eliminare il gap di interazione fra i centri per l'impiego, le aziende, gli studenti e gli enti pubblici. Non sono d'accordo invece i rappresentanti del movimento studentesco, contrario al piano garanzia giovani. Ci stanno prendendo in giro, afferma uno dei portavoce. Quest'incontro è una farsa. Il piano non funziona, gli annunci lavorativi prevedono lavori retribuiti a 2 euro l'ora. Un laureato operatore ecologico è il giusto modo per agevolare l'occupazione giovanile? Dagli interrogativi insoluti si evidenzia dunque una realtà nazionale oggettivamente riconosciuta. Chi non ha un sindacato alle spalle rischia di restare fuori dal network lavorativo e imprenditoriale. Nuovi finanziamenti per le imprese femminili. Il servizio di Valeria Molinaro. Dottoressa Lustri ha dichiarato che chiunque può essere imprenditore si ha voglia di mettersi in gioco e se gli si danno gli strumenti giusti. Dunque quali sono in breve questi strumenti che possono andare incontro alle donne imprenditrici? Sì, gli strumenti sono tutte quelle azioni di supporto alla creazione di impresa ma anche al sostentamento dell'impresa che costituiscono quello che viene detto un ambiente eco intorno. che è un sostegno intanto che deve partire sicuramente dalla diffusione della cultura di imprese sin dalle scuole e soprattutto all'università dove ancora anche nelle facoltà di economia il business per esempio non si lega alla nuova introduzione delle tecnologie digitali. Quindi fondamentalmente sicuramente far capire alle giovani, a tutti i nostri giovani che il loro futuro lavorativo si dovrà sicuramente affidare alle loro capacità anche di espandere le proprie ambizioni, le proprie aspirazioni con un'attività imprenditoriale che può dare successo ma soprattutto è un ritorno di prosperità per tutta la società perché tutta l'economia si fonda sulle imprese. Cioè la ricchezza, la nostra prosperità viene dalle imprese ed è per questo che è veramente un dovere cercare di fare tutto quello che si può fare quindi cultura, tutte le attività di sostegno che possono essere la formazione continua il mentoring, gli scambi internazionali come è stato detto prima gli Erasmus per imprenditori che permettono di allargare la propria visione di capire come si lavora anche all'estero come sia anche facile, come sia sburocratizzato per almeno per certi paesi lavorare e questo può essere anche un ritorno per l'Italia perché questi giovani, questi giovani che quindi sono portatori di una nuova realtà di un nuovo modello economico possono apportare un miglioramento al superamento della crisi economica quindi tutte le azioni di sostegno ma tutte le azioni per esempio di networking l'utilizzo delle piattaforme digitali dove si può fare scambio, dove si può fare business ma soprattutto essere informati di cosa succede nel mondo queste sono tutte le attività di sostegno oltre ovviamente un sostegno effettivo che può essere il finanziamento abbiamo sentito dall'ABI delle ottime opportunità di sostegno che tutte le banche italiane stanno mettendo a favore sia delle imprese, delle neo, delle start-up sia di imprese già consolidate che vogliono invece migliorare e quindi dobbiamo aspettarci sempre di più il networking, di mettere insieme diciamo tutte le capacità sia delle amministrazioni ma anche degli enti privati cioè lavorare insieme associazioni e amministrazioni una donna di soli 26 anni è stata impiccata a Teheran questa è la 250esima condanna a morte dall'inizio dell'anno l'Iran è secondo dopo la Cina davanti a Iraq e rabbia saudita ciò in un momento critico a meno di un mese dalla scadenza del negoziato sul nucleare è durata tre ore e mezza la deposizione al Quirinale del presidente Giorgio Napolitano nell'ambito del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia magistrati palermitani divisi sull'utilità della testimonianza del capo dello Stato il PM Francesco Delbene accusa questo processo non è voluto da tutti specie dai rappresentanti dello Stato parole pesantissime che lo stesso pubblico ministero ha parzialmente rettificato la CILA in collaborazione con l'istituto ISPA organizza un master in giornalismo politico e radio televisivo il corso si compone di tre moduli al termine dei quali è previsto lo svolgimento di uno stage presso le testate edite dalla Confederazione l'avvio del primo modulo è previsto per il 15 novembre 2014 e ora è il momento della rubrica d'approfondimento osservatorio politico a cura del dottor Massimo Marciano ciò che sta accadendo nei partiti e tra i partiti in questi ultimi giorni ci dimostra ancora una volta quanto la nostra classe politica sia nel caos e quanti i nostri politici vogliono effettivamente risolvere i grandi problemi economici e sociali che sta vivendo purtroppo il nostro paese la strategia politica ormai diffusa è del tutti contro tutti contestazione del Movimento 5 Stelle riunita a Roma la Lega Nord a Milano divisa tra i pro bossi e i pro Salvini Maroni uno strano connubio tra il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord su politiche migratorie ed euroscetticismo contrasti sempre più accesi della Lega Nord e Forza Italia su unioni di fatte tra omosessuali due parti di questi che ormai non si intendono più ammesso che ci sia mai stata una vera e propria intesa la stessa Forza Italia dilaniata al suo interno da lotte intestine che cerca di spostare il proprio baricentro politico verso i moderati appropriandosi dello spazio alfagnano e apparendo dal volta partito più a sinistra di quello renziano i partiti minori impauriti dai possibili nefasti effetti dell'Italicum che cercano disperatamente di accasarsi con i partiti maggiori per salvare qualche misera poltrona parlamentare se tutto questo non bastasse la recente manifestazione di protesta della CGL a Roma ha contribuito ad aggiungere causa al caos un pezzo della sinistra italiana che si schiera contro il governo di sinistra se è vero come lo è che la minoranza interna del PD ha partecipato in massa all'iniziativa sindacale Fassina Civati Cuperlo Damiano a cui si sono aggiunti i cofferati dei pifani non quelli del SEL orfani di migliore passata alla Leopolda quanto poi Renzi sia di sinistra ancora tutto da dimostrare a parole sembrerebbe in realtà poco molto poco è stato finora fatto la tassazione delle rendite finanziarie e la contemporanea riduzione delle tasse a redditi medio alti i famosi 80 Euro comunque insufficienti sono misure che vanno nella giusta direzione ma non altrettanto alla presenza della Leopolda di illustri imprenditori milionari diventati improvvisamente renziani convinti culturalmente ma anche concretamente lontani dai bisogni delle esigenze del popolo come può un partito un premio di sinistra accogliere personaggi che pontificano sulle politiche giuste per loro che dovrebbe caratterizzare l'azione dell'attuale governo quando non sanno minimamente cosa significhi poter disporre di un reddito a malapena insufficiente o peggio ancora essere disoccupati quando non sanno minimamente cosa significhi vivere con una pensione sociale o per i giovani non avere alcuna speranza per il futuro quando non sanno minimamente cosa significhi dannarsi ogni giorno per mandare avanti un'impresa artigiana tassata e vessata in continuazione politica nel caos e caos nella politica senza una strategia sulla redistribuzione dei redditi e della ricchezza se non quella di mantenere gli stipendi ai burorati dello Stato a livelli vergognosi chiedendo poi continui salifici al popolo senza una politica economica che restituisca certezze e fiducia ai cittadini ai piccoli imprenditori ai pensionati ai giovani una politica dei redditi una politica sociale una politica economica che noi abbiamo ben chiare e che avremo occasione di approfondire ulteriormente nei prossimi giorni condividendola con chi lo vorrà attraverso un confronto democratico e costruttivo che dovrà porsi l'obiettivo di perseguire con determinazione l'interesse comune e non quello personale di qualcuno è tutto per questa edizione del nostro notiziario arrivederci alla prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti